La Polizia di Stato a Canosa di Puglia ha denunciato in stato di libertà un 47enne del luogo incensurato, ritenuto responsabile di numerose scritte razziste apparse sui muri di edifici pubblici e privati del comune. Grazie al lavoro della Polizia scientifica che ha analizzato alcuni fotogrammi estrapolati da videosorveglianze cittadine e private, dai quali si notava un individuo con una boboletta spray imbrattare uno dei muri della villa comunale di Canosa, gli investigatori sono riusciti attraverso alcuni dettagli dell'abbigliamento dello stesso a individuare l'autore. Durante la successiva perquisizione domiciliare l'uomo ha messo infine le sue colpe. Soddisfazione da parte del sindaco di Canosa Roberto Morra che ha espresso la propria gratitudine nei confronti dell'operato degli investigatori, aggiungendo che ora il comune potrebbe dichiararsi come parte civile vista le spese messe in atto per ripulire i muri di proprietà comunale imbrattati dall'uomo e il danno d'immagine con la conseguente richiesta di risarcimento danni.